Succede a Jacopo quello che era successo a Bruto e a Cassio dopo l'assassinio di Cesano. Erano convinti di aver agito in nome del popolo, ma il popolo non li aveva seguiti. Jacopo percorre la piazza di Corsa, schiva tutto quello che gli viene scaraventato addosso, si affaccia sulle vie intorno alla piazza, guarda lontano, ma non c'è traccia degli eserciti mercenari assoldati, che evidentemente hanno ricevuto l'ordine di ritirarsi. Li aspetta, li aspetta ancora e la sua attesa diventa prima ansia, poi angoscia. Ha un tratto però, una speranza. Sente una folla che gli si avvicina. Ripetono uno slogan ad alta voce, tutti insieme, ma quando riesce a intendere le parole, gli si gele al sangue. Non è popolo e libertà, ma palle, palle, il segno che caratterizza lo stemma dei medici. Quella folla non gli sta venendo incontro per osannarlo, ma per linciarlo.